I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifri, in base al DMC numero 145 del 203 2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. La distanza è bonca e la gioia è tanta E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa È la casa dei numeri Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu Casalotto in tv Ye 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 Eccoci qua Allora puntuali come sempre naturalmente anche alle ore 20 che è una puntata che dura leggermente meno 40 minuti ma come tutte le puntate comunque mattino pomeriggio che siano sono sempre belle e intense e allora anzi a proposito lo anticipo domani il primo di dicembre e partirà da domani mattina la sigla nuova Lo sapete che sotto le feste cambiamo la sigla ed è molto carina perché è piena di neve Neve che chissà se neve raggiù quest'anno Ma Marco secondo te buonasera Intanto ciao Dato le temperature che così fredde Ben ritrovata Ben ritrovata Anche a te Un buon lunedì sera a te Un buon lunedì sera ovviamente al pubblico di Casalotto Io guarda onestamente spero Anche perché insomma magari con meno traffico c'è un'aria un po' più pulita Di questo non se ne parla Tu dici che arrivi anche la neve quest'anno Sarebbe carino Mi piace e mi manca Tanto siamo tutti chiusi in casa Magari come quel lontano 1985 Oh che meraviglia Sei metri Io lì così Sì 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 Mi piacerebbe molto No devo dire io amo follemente la neve Poi certo crea tantissimi disagi Però se andiamo avanti così che siamo più o meno bloccati E' anche godibile no? Quindi sì più o meno Non verremo più a far Casalotto E beh lì sarà un problema però Un collegamento da casa Non so da qualche parte In qualche modo arriviamo nelle vostre case Però adesso scherzi a parte Perché facciamo i disastri ovvio Però ci conto quest'anno Che invece Un po' di neve? Sì poi insomma il meno 1, meno 2, meno 3 Ammazza un po' anche i virus Questa è una roba abbastanza importante Quindi in questo periodo Allora che neve sia Che la sigla domani nuova di quest'anno del Natale Porti buon auspicio per tanta neve Dai allora Speriamo poi Pronti? Ci mancherebbe Pronti? Prontissimi? Notizie, consigli? Ci siamo visti già nel poveriggio Domani è il primo dicembre Prima estrazione del mese domani sera Mese è oltretutto il più importante di tutto l'anno Quindi io ve lo dico da subito Si sbatte via tutto Si riparte da zero Cosa che ormai dico tutti i mesi All'inizio di ogni mese Quindi insomma si riparte col famoso foglio Quanto ho speso, quanto ho vinto E poi tiriamo le somme Perché non è che basta un'estrazione brutta Per dire io che palle non gioco più O una bellissima Per cui ciò tanto si vince sempre No Ci sono insomma degli equilibri L'importante è raggiungere con testa Quello che si può fare Lo ripeto ancora Dicembre è il mese più bello Proprio per quanto riguarda il gioco Di solito Ed è solo 22 volte che lo viviamo insieme Il mese di dicembre Siamo riusciti ad ottenere grandi risultati Lo ricordavo oggi pomeriggio Che era appunto al telefono prima della diretta con Lio Che mi ricordava che l'anno scorso Sono stati fatti tre terni secchi Attenti Due su ruota e uno su tutte Capite quale valanga di soldi sono stati Quei tre terni Più gli altri classici risultati Adesso noi tranquilli tranquilli Partiamo Tanto rivediamo i contenuti di oggi Quindi non ci sono cose nuove Ma io con tutta calma ve li riporto Perché andiamo a centrare nel segno Con il minimo sindacale Quello che reputiamo essere il meglio Per iniziare questo mese Sentiamo un po' di chiacchiere E poi andiamo di là Tanto alla sera c'è tanto tempo per chiacchierare Perché io ho poco tempo e poche linee Quindi ve lo dico prima Quando sarà ora muovetevi Ok? È vero è vero È il mattino che abbiamo poco tempo per le notizie invece Allora Prima notizia Parleremo di una bella donna Molto professionale Lavora in Rai Reduce dal grande successo del suo reality Parliamo di Ballando con le stelle Milli Carlucci Che parla della presunta rivalità Della sua collega Maria De Filippi Questa è la prima notizia Piacerebbe Poi andiamo avanti Perché ci occupiamo invece di Emma Marrone Che dice Che da Aspetta Ho preso la pagina degli animali E la sua maternità Che giustamente dice Non è un obbligo Ogni donna ha il suo Giusto percorso Questo è il titolo della notizia Poi parliamo sì di amici animali E oggi grazie perché ci avete mandato tante foto dei vostri amici Cani, gatti e cos'erano tartarughe d'acqua Tartarughe No una di terra e una d'acqua Ah già è vero Parleremo di galline La mia vita con la gallina Piera Che è la mascotte di un condominio museo Vedremo anche delle immagini Visto non l'hai trovata oggi la gallina Te la trovi stasera Galline, mucche Io quelli voglio vedere Nella notizia Vabbè tanto devi partire tu Perché io non ho linea e non ho niente Quindi È vero è vero Allora appunto dicevamo Emili Carlucci Reduce che quando è finito due sabati fa Perché tu si che vale dalla fine sabato Ballando è finito il sabato quello prima Ha portato a casa dei bei numeri di ascolti Insomma va bene Anche la finale comunque è un reality Che è abbastanza molto seguito E ha in una recente insomma intervista Ha parlato della sua presunta rivalità con Maria Di Filippe E ha anche rivelato se farebbe mai un programma con la sua collega Che non è esattamente la sua migliore amica E dice un programma in coppia con Maria Di Filippi Perché no? Dipende poi ovviamente anche dal progetto Se me lo proponessero lo valuterei con attenzione Spesso si favoleggia di una rivalità che poi in realtà alla fine dice che non c'è E quella sarebbe l'occasione appunto per sgomberare il campo delle chiacchiere O forse no perché magari agli italiani piace anche dividersi in Guelfi e Ghibellini In Rivera o in Mazzola, in Totti o del Piero dice Quindi visto il successo di entrambe continuate pure a parlarne Comunque anche l'anno scorso ha parlato bene della sua collega sempre Millie Maria dice riassume tutti i ruoli È una grandissima donna Penso abbia fatto molto per la causa femminile Clerici, Venier, Ventura Sono tutte comunque amiche Persone di cuore anche con il pubblico Persone che ti abbracciano Barbara D'Urso invece ha un suo stile con cui devi fare i conti Dice sempre la Carlucci Chiaramente punta sull'essere divisivo Ma è poppo e fa davvero bene quello che fa Diffida di plagio ad amici celebrities Il programma di Maria in cui i VIP ballavano un po' come a ballando con le stelle È vero? Te lo ricordi? No Questa è stata una cosa un po' equivocata Mediaset aveva fatto un accordo evitando di versare molti milioni di danni In cui si impegnava a non usare più gli elementi di ballando nei suoi programmi televisivi Ora uno degli elementi costitutivi è vedere un famoso invece con un maestro che gli insegna a ballare La cosa è molto semplice Se firmi un documento un senso ce l'ha Non è polemica il rispetto delle cose scritte Tirarsela meno No vabbè perdonami adesso ballando con le stelle non mi sembra proprio la cosa più geniale Cosa hanno messo insieme? Uno, un altro, ballare, ballare Sì un personaggio Ho capito E cosa hai inventato? Un ballerino o una ballerina E qual è la dinamica? Che cosa hai inventato? C'è un maestro, un professionista, un pirla che devono ballare Che forse a fine reality hai imparato a fare qualche passo Sì ma non è che tu possa depositare il brevetto di una roba del genere Non lo so poi è una trasmissione che a me non piace quindi che ti devo dire non la capisco Tra l'altro ogni anno perché nei reality ti autocandidi e invece c'è anche la versione dove è la produzione che contatta il presunto poi personaggio E tanti autocandidati arrivano magari da edizione di Grande Fratello, di Isola dei Famosi o comunque altre reality E lei, insomma su questo è sempre stata molto rigida Se ci fai caso in tutte le edizioni di Ballando con le stelle Non c'è mai stato perché lei proprio non accetta personaggi famosi che arrivano da reality Lei no, li boccia subito a priori Allora che poi lei pensi È una regola che proprio lei si è prefissata dalla prima edizione di Ballando Che lei pensi che è in conflitto Però almeno lì puoi dire che non è tutto un giro e rigiro No, 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 io perdonami sono pro Maria al 100.000 per mille perché sono programmi completamente diversi Quindi a lei ha una gestione che va da amici che è con una scuola quindi da lì a dirmi che si copia a quell'altra lì dove si A me non piacciono quelli lì dei troni, quelle robe lì perché non mi interessa Uomini e donne Però capisco è un'altra roba e adesso tra un po' partirà c'è posta per te Dai che tra un po' si piange il sabato sera Cioè tu me la vuoi paragonare C'è posta per te Con una che è una conduzione anni 80 Poi sicuramente la Carlucci è una grandissima professionista e ha una bellissima carriera alle spalle Non la facevo così puntigliosa, la pensavo un po' più umile E invece no, probabilmente allora è quello che vediamo Un tocco di legno, è un po' legnosa scusami e non si deve offendere nessuno Non la vedo scivolare in una televisione moderna Mentre una Maria che è un'altra legna perché è legnosissima, però l'abbiamo vista cambiare Sta cambiando negli anni, la vediamo sbraitare Ha avuto il coraggio con una feriglia a fianco in Tussichevales di fare robe che forse uno non si aspetta Questo non vuol dire che facendo il pagliaccio, però ti devi avvicinare a una televisione più moderna Forse anche la conduzione della trasmissione della Carlucci richiede una sorta di rigore Però io la vedo sempre come una roba tipo Sanremo, quelle robe legnose E a me, perdonami, non mi piacciono, insomma i tempi sono cambiati Ci vorrebbe... però ecco no, non pensavo se la tirasse così tanto Poi rimane una straordinaria professionista, mi è sempre piaciuta tanto Non in questa avventura, ma perché è il genere che non piace a me Quindi ci manca, non critico assolutamente nulla Però non mi sembra in quel po' di volte che io ho visto magari a pezzettini la trasmissione Che lei sia una un po' sciolta, anzi no, assolutamente no Poi il fatto che uno di nieghi o insomma non voglia avere a che fare con Lo trovo un po' triste, ecco io non l'avrei mai detto Poi magari lo pensi, ci mancherebbe, penso che metà degli italiani Pensino che a volte si parla di grande fratello VIP Ma la parola VIP è proprio diventata una nullità Va benissimo, però ecco poi da lì a dichiararlo nella sua posizione Comunque non credo che ci sia nessun tipo di conflitto Perché non fanno niente, ma niente, ma niente di simile Di simile, è vero, è vero Ecco io una Carlucci ce la vedrei in un'isola, adesso non so più dove è in Rai, dove è in Media Se non mi interessa, però in una roba, un'isola dei famosi Perché lei ha quella istituzionalità conduttiva, no, di rigore Quindi mi ricorda un'avventura negli anni d'oro Ma che dovrebbe poi poter scivolare anche su qualcos'altro Perché ci sono delle varianti Invece lei è una di quelle che ha una scaletta Imparata a memoria, quadrata, postura, e tic e tac E per me è un po' stagnante Mi piacerebbe vederla in un'avventura un po' più spontanea Ecco, quello che manca secondo me in questa roba qui Forse perché è cent'anni ormai che fa solo ballando con le stelle La trovo troppo rigida Ecco, e secondo me lei può fare molto di più Però paragonarsi all'altra, no, sono due mondi completamente diversi Non trovo un filo conduttore, insomma, tra le due robe È vero Va bene, ok, perdonami Andiamo avanti No, 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 lo sai che da casa tutti aspettano anche il tuo parere Anzi, è una di quelle che mi piace anche, me le ricordo ancora, le Carlucci Ma tra l'altro Gabriella Carlucci, l'altra sorella Si era un po' messa in politica, ha fatto anche tanta televisione Ma non erano tre? Sì, la terza è quella che era sempre più nascosta Esatto, poi l'altra è andata in politica e lei è rimasta Ma quella che è andata in politica, che ha fatto anche un po' di televisione Io è anni che non la vedo più Eh, non lo so Sparita Gabriella Carlucci Vabbè, comunque le Carlucci sono un pezzo della televisione italiana Tre sorelle, sì Sì, ma sì, insomma, io ho un bellissimo ricordo Ripeto, lei mi piace proprio tanto In questa veste è un po' meno, insomma Come non mi piace magari la conduzione Come si chiama? Quello dell'isola dove vanno a litigare No, non è l'isola Dovevano a litigare? Sì, Tentation Ah, Tentation Quest'anno l'ha fatta la Marcuzzi Chiunque la conduca, esatto Mentre la Marcuzzi a me piace da morire A me quella conduzione lì, sai, poi è anche il programma Che fa, eh, non mi era piaciuta l'avventura Non mi è piaciuta Lo trovo, non lo so Non mi piace, che ti devo dire Poi è una roba E lì lei adesso fa solo ballando con le stelle Non piacendomi la cosa Me la ingessa un pochino Mi piacerebbe vederla in altro Eh, perché sicuramente Ce la ricordiamo tutti Sa fare di più Che sta roba Da presentazione, da festival Eh, oppure quando iniziano a litigare Che non è neanche tanto brava a mediare Perché io ho beccato poi sul web Alcune belle discussioni E la vedi che si irrigidisce Non c'è... Vabbè, comunque Basta, finito Adesso c'è posta per te Andiamo Quando inizia? Sabato? C'è già il promo su Mediaset Non ho capito se è questo sabato E' prossimamente No, fateci respirare un sabato Settimana fa Perché tutti i sabati sera Io arrivo a Luino e vedo Mamma No, io non c'è niente a fare Papà lo fa per mia madre Perché No, 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 io lo aspetto con ansia Ma no Tu piangi? Settimana scorsa avevamo parlato di The Voice Beh, a volte mi scende il lacrimone Ti ti muovi? Io sembro uno stronzo Ma non lo sono per niente Quindi poi dipende dalle storie In altre mi arrabbio tantissimo Altre sono lì che tifo Per non aprire la busta Non aprirla Non aprirla Quindi sì, mi piace Devo dire che è una roba Che mi colpisce tanto Ho visto The Voice Venerdì La prima dei nonnetti Molto, 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 molto carino Sì Devo dire che la carrisi Si scioglie Ti ricordi che ne avevamo parlato Eri tu? Sì, sì Non male Non male Quindi bello Mi piace molto Andiamo Andiamo di là Così per far condicio Un po' di Rai Un po' di Mediaset Andiamo in redazione E partiamo col consiglio Venite con me Ci siamo 895 e 095 Partiamo da un classico Portale più importante Che contiene Partendo da zero Quindi abbandoniamo Il pregresso Si riparte con un 90 straordinario Che conosciamo nel mese Di dicembre Essere un elemento predominante Lo è stato poi anche in novembre Dove 9, 90 e figura 9 Hanno dato grandi 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 risultati Allora vado veloce Perché adesso partono le linee Come ho detto È il tempo e le linee Che la sera sono stringati Iniziamo da 981 Che oltre ad essere stato Un ambo vinto Sabato sera su ruota È un ambo di somma 90 È di figura 9 Napoli lo so Che ci ha appena dato Anche il 90 Ma lo ripete Ripartiamo da qui Quindi a Napoli Troverete un terno Un terno secco Su una ruota Andiamo a Bari Genova Bari Genova Un ambo un terno Così vi ho detto tutto E potete iniziare Ad entrare nel portale Perché appunto È stringata La condizione Vi devo sottolineare Tra Bari e Genova Un'importanza maggiore Sul 90 a Genova Perché oltre alla 40-50 Che è la somma 90 in terza Quindi anche chi ama L'estratto determinato Il 90 in terza Lo possiamo mettere con un euro Attenzione perché Genova ci dà In quinta posizione Il 30 al 30 è un richiamo Al 90 dalla sua simmetrica La 30-60-90 Piccolo richiamo Ma c'è E poi quel 30-2-58 È una rarità Terno di somma 90 Quindi l'intersezione Tra Bari e Genova Fa sì che delle due Genova sia in assoluto La migliore Ripeto e poi sto zitto Un ambo un terno A Bari Genova Fate attenzione a Genova Solo un terno a Napoli Tutto questo È il 90 di domani Muoviti C'è nell'aria qualcosa Forse profumo di rosa Rosa, 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 rosa Il volo di una mariposa Che mai si posa Una presenza sinuosa Aggiungi al 9 1 0 E spaccherai il mondo intero E dentro al cuore poi canta La gloria del 90 Cambiati Metti un vestito da sera Rinnova l'atmosfera Bola nella stratosfera Entra in una nuova era Mostrati per quella Che ti senti dentro Cogli il tuo momento Impegnati a fare centro Vai dove ti porta il vento Aggiungi al 9 1 0 E spaccherai il mondo intero E dentro al cuore poi canta La gloria del 90 Aggiungi al 9 1 0 E spaccherai il mondo intero E dentro al cuore poi canta E dentro al cuore poi canta La gloria del 90 Aggiungi al 9 1 0 E spaccherai il mondo intero E dentro al cuore poi canta La gloria del 90 La gloria del 90 Essendo amante lui molto Dei film Pensa che era una delle mie Preferite da bambino La storia? La stessa età Sì Te li ricordi i dischi Della fabbrica Certo Come no? Ecco a mille Ce n'è quella lì Io ricordo Pensa questo è un problema mentale Da profondo rosso film horror La canzoncina Di quando loro arrivano E trovano la casa di Canditi Io me la ricordo ancora oggi Che ho 50 anni Tu non ti ricordi? E' più o meno C'è una casetta tutta fatta Di Canditi No Se non ci credi Puoi provare con i diti No Non te la ricordi? No Marco che canta! Certo è di panna E sì Dentro c'era la strega cattiva Che poi è finita in forno Ah Eh non sto bene Ok Andiamo avanti E sono quelle robe che ti ricordi Quella Insomma di quella linea lì Che c'erano i dischi Credo fosse la fabbrica La casa editrice Comunque Quella lì Va bene scusa Andiamo avanti Prego Allora Parliamo di Emma Marrone Parliamo un po' anche del Natale Ne abbiamo parlato un po' anche Insieme a te oggi pomeriggio Perché sappiamo tutti Che sarà un Natale diverso Un Natale un po' più ristretto E magari per la gioia di alcuni Il fatto che non si potranno fare Queste tavolate Insomma di parenti Per molti è anche una gioia Più che una gioia Diciamo che è Eh ma Eh beh sì no davvero La leggerezza È impegnativo È molto impegnativo Quei parenti che magari non li vedi Per un anno intero E a Natale Sei costretto a sederti a mezzogiorno E alzarti alla sera E insomma Esplodere Esatto E Emma Marrone Che è in attesa Come tutti quanti noi Di questo famoso Nuovo DPCM Prova a scherzarci Un po' su Dicendo che lei Un po' è contenta Di stare a Natale Con pochi parenti Ma per il semplice fatto Di evitare Di sentirsi dire Da tutti i parenti Ma come mai Un fidanzato Un bambino E lei dice Che intanto Non voglio figli per ora Perché deve ancora Fare un sacco di rock and roll Eh E lei Cantante salentina Insomma Sul messaggero Ha fatto una bella intervista Introducendo anche un tema Molto importante Ovvero La libertà di essere madre E la libertà di non esserle Lei oggi ha 36 anni Appena compiuti Con una bellissima notizia Perché intanto Sappiamo che ha vinto Questa battaglia Contro la malattia Che non c'è più E poi ha festeggiato Anche 10 anni di carriera Non sembra Ma oh Da quando ha vinto amici Sono passati 10 anni Ed era proprio una bimba Sulla maternità Sui figli ed intorno Dice La maternità non è un obbligo Ognuno ha il suo percorso Può succedere Che una donna Voglia dedicarsi a se stessa E poi anche l'età Delle madri È cambiata Oggi abbiamo la possibilità Di congelare gli uovoli E conservarli E lei oggi Single Lo farebbe assolutamente Dice Giudice di X Factor Pronta a tornare sul palco Quando si potrà Non vede l'ora Ma povera La immagino Come tutti i cantanti Sulle relazioni La pensa così E chiudiamo la notizia Oggi le donne studiano Viaggiano Sono indipendenti Difficile trovare uomini Che accettino questo Io li terrorizzo Levati i panni Levati i panni Da rock star Quando torno a casa Io impasto polpette Faccio la lavatrice So aggiustare il mobile Sistemo tutto da sola Ma so che da qualche parte C'è uno alla mia altezza Rock and roll Lei è felice così adesso Certo O c'ha 36 anni Comunque è ancora giovane Vuole ancora cantare Non vede l'ora Anche noi I teatri Il cinema Gli stadi I concerti Lei se la merita tutta Perché è proprio brava 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 Quindi adesso Senza il pietismo Della malattia Lei è proprio una grande Quindi assolutamente Se lo merita Mi piace questo tipo Di dichiarazione Perché poi io amo Le persone che dicono sempre Quello che pensano Perché sai Di fronte appunto A una star A una domanda del giornalista Le potete dire Non ho trovato quello giusto Insomma ci giri intorno E invece ha sbattuto lì La vera realtà Non è che tutte le donne Hanno il senso materno E non vedono l'ora Di sfornare pargoli Poi ognuno di noi È diverso E io rispetto anche chi Non ne fa Per scelta Ci mancherebbe altro Dov'è il problema Se non ce l'hai Questo senso materno Non vedo perché Tu te lo debba Imporre Perché i canoni di chi Non c'hai voglia Non lo fai C'è chi invece poi magari Fa fatica a farli Chi invece ne spara Uno dietro l'altro Poi insomma Il mondo è bello Perché è avariato Di conseguenza È giusto così Assolutamente È vero Quindi Poi ecco Invece al contrario Non mi fa impazzire Una che ha 50 anni Vuol fare un figlio Ecco io sta roba qui Egoisticamente Non la capisco Eh no Sheila Cioè io di fare la nonna Voglio dire Di mio figlio No Anche perché a 50 Va bene Viviamo tutti un po' di più Ma andando avanti Tra gli acciacchi che arrivano Che cosa ci riserva A 70 Mia mamma Ne ha 73 È una donna ancora bella Sto pensando Se lo fai a 50 Quando l'uno è a 20 Tu ne hai 70 Tua mamma a 73 Più o meno è come la mia 73-74 Quell'età lì Potrebbero avere una di 18-10 anni Ma no Ma no Ma anche no Dai Cioè mia mamma Io la inizio a vedere Nei suoi acciacchi La fisionomia Anche il corpo Come cambia Diventa Come sua mamma Quindi sua Invecchia No no Poi credo che Nella vecchiaia La vecchiaia non vuol dire Essere decrepiti La vecchiaia a un certo punto arriva Credo che dopo una vita Occorra mettere un attimino Di tranquillità E forse egoisticamente Di dedicarsi A delle cose Personali Quelle che magari In tutta la vita Non hai potuto Coltivare Fare Perché presi Dalla famiglia Dal lavoro Dalle rogne E lì la tranquillità Io davvero Perdonami Non lo comprendo Non lo comprendo È una roba che Non riesco proprio a capire Perché io a 70 anni Devo avere un figlio di 18 Non ce la posso fare No No Anche perché egoisticamente Poi quel figlio Rimarrà orfano presto Sì Quindi egoisticamente È una cosa brutta Quanto vuoi vivere Io purtroppo sono terra terra No Quindi poi i casi Di 100 anni Sono pochissimi Se tu fai un figlio Che c'hai 50 anni È egoismo puro Perché quel bambino Quella bambina Rimarrà orfana presto Perché La vita è quella Eppure ce n'è tante in giro Poi a parte qualche pop rock star E io ste robe Perdonami Ma non le comprendo Poi se Anche perché In alcuni casi È diciamo Aiutata la cosa No Quindi è proprio cercata Se poi una nella vita Perché con Non è detto con suo marito Insomma Bim bum bam Come si fa Rimane incinta Ce n'ha 50 Sarà lei decidere che farne Ma andare a cercarlo È proprio Io devo andare di là però Perché noi parliamo Ma io ho tre minuti E vi devo parlare Di una roba Poi dopo la pubblicità Ve la riporto Ma dobbiamo parlare Del 9 E del 9,90 Non da giocare Isotopo Condizione rarissima Venite con me Vado veloce Poi se riesco Prima di salutarvi Ve lo riporto Allora regia Toglimi Perché a scatola chiusa Vi do due minuti Perdonatemi Ma non avevo visto il tempo L'892277 Che è l'otto flash Contiene Il 9 Su Nazionale Venezia Un ambo interno Con il 9 Ma io vi chiedo Di fare Molta attenzione Ai due ambi Di Napoli Venezia Dove il 9,90 È arrivato sabato In quinta posizione Sapete che la condizione Del 9,90 Isotopo È una rarità Proprio perché sono due numeri A volte un po' stronzetti Che fanno fatica Ad arrivare In isotopia Sono importanti Novembre hanno avuto Una bella frequenza Bene Attenti a quei due ambi Quei due ambi Ambi Scusate Dal Napoli Venezia Sono sicuramente Il pezzo forte Di questo Lotto flash Vi aspetto con l'io Al tasto 3 8,9,2,2,7,7 Sono tre cifre belle E sono perfette Aprono veloci Quella cassa forte Che distribuisce a tutti Buona sorte 8,9,2,2,7,7 8,9,2,2,7,7 8,9,2,2,7,7 8,9,2,2,7,7 Chi le ama Chi le ama Puoi di amarle Sai non smette È la giusta Tua combinazione Sono tre cifre Sempre in mezzo All'azione 8,9,2,2,7,7 8,9,2,2,7,7 8,9,2,2,2,7,7 8,9,2,2,2,7,7 Allora pochi secondi Noi ci fermiamo Abbiamo un po' di pubblicità Poi torneremo E andremo a scoprire Tutti insieme Questa storia molto simpatica Della gallina Piera È una storia incredibile Ma soprattutto Poi torneremo con Marco Di sorridere È una storia Veramente divertente La Piera? La Piera Ti farà sorridere E poi torniamo Veniamo da te Marco Assolutamente Non andate via Perché andiamo a vedere Anche un bel pezzo Atteso per dicembre Tra poco Allora bentornati Tra poco andiamo da Marco Ma adesso rilassiamoci Perché vi voglio raccontare Questa storia Io ci credo Perché da piccolino Ho avuto anch'io una gallina E veramente Hanno una sensibilità incredibile Questi animali Vi dico come la descrive Intanto il suo padrone Che sono inseparabili La descrive come Una gallina straordinaria La sua personalità carismatica E la sua cura Durante la cova Mi sono di ispirazione Non solo nella mia vita Ma anche in campo artistico È un animale intelligente Fedele E indipendente Il suo padrone Che ha un nome ovviamente Non sorridete Ma si chiama Bris Coniglio Ed è un artista di Torino Questa è Piera Questo è l'artista Che è fondatore Del condominio museo Di Via La Salle 16 Lo scorso 14 febbraio Ha adottato Piera Lui praticamente È andato al mercato Di Porta Palazzo di Torino Si era avvicinato A un banco Di uova fresche E ha chiesto Al contadino Di volergli Comprare una gallina Il contadino Il giorno dopo È tornato al mercato E gli ha portato Questo esemplare Di sette mesi Lui l'ha presa L'ha portata a casa L'ha chiamata subito Piera Dice che nelle prime Cinque ore Non aveva il coraggio Di prenderla in braccio Poi me ne sono subito Innamorato Perché prenderla Il 14 febbraio? Perché in realtà Questa gallina Piera Era il regalo Per il suo compagno Ma il suo compagno Aveva un cane O due Il compagno dell'epoca Adesso non c'è più Il compagno Devono essersi lasciati Per Piera? Sì Il compagno di lui Aveva dei cani Quindi non poteva tenerlo E allora ha deciso Di tenerlo Di tenerlo lui Vivono insieme Da nove mesi Sono inseparabili La porta ovunque Al supermercato In tabaccheria E gli spettacoli teatrali All'aria aperta Di quest'estate Nell'ex cimitero Di San Pietro In vincoli Nei locali Nei bar O agli aperitivi Prima del lockdown Piera riconosce Il suo nome E anche i miei amici Racconta l'artista Vive nel laboratorio Del condominio museo Dove credo Abbiamo visto alcune immagini Che ha la finestra Sempre aperta Per permettere Di andare dove gli pare Sta spesso Nel giardino condominiale Oppure nel mio appartamento Che sta al primo piano Conosce la strada Memoria Per arrivarci da sola E dice Che a differenza Di Gigi Meroni Che camminava per Torino Con una gallina guinzaglio Piera viaggia Sempre sulla mia spalla Come vediamo In quasi tutte le foto Un po' come farebbe Il pappagallo Di un marinaio Tutto il condominio La ama La coccola Come gli artisti Che lo frequentano Racconta ancora il ragazzo E quando i residenti Del quartiere Ci incontrano per strada La salutano Gridando il suo nome Ciao Piera Ti ho detto che ti faceva ridere L'ultima mostra Che hanno inaugurato Che è ancora in corso Gentili Vicini Chiusa al pubblico E aperta solo ai residenti Dello stabile E infatti Simbolicamente curata Proprio da Piera Valentina Gallov Cioè la gallina Piera Lei stessa Da qualche mese Anche una pagina Instagram Scusate ma devo andare A seguirla Piera Segnatelo Diva Piera Tutto attaccato Diva Piera È il profilo della gallina Dove con i video In cui canta Perché canta anche Col suo padrone E le immagini in giro Per il condominio Conquista ogni giorno Decino Centinaia di like E grazie a questa notizia Questa sera Cara Piera Avrai ancora più like Il mio ti arriverà stasera Perché sarò una tua seguace Vabbè io mi sono innamorata Di Piera Scusate Di Beh è facile ricordarlo Diva Piera Il profilo Instagram Della gallina No ma io ci credo Ci credo Per dirlo all'io Che anche lui è stato Io non ho Instagram Quindi non mi interessa nulla Però vabbè è bellissima Glielo ricordi Diva Piera Assolutamente sì E devo dire È una storia molto divertente Mi dispiace Mi stavo domandando Questo grande affetto Sicuramente come tutti gli animali La sua intelligenza ce l'ha Siamo noi a dire C'è un cervello da gallina Ma in realtà le galline Non sono poi così stupide Sono animali particolari Io ricordo da bambino Certo che ti riconoscono Quindi ti beccano Ti inseguono Quindi Poi ci sono anche quelle tremende E quelle cattive Sì assolutamente Perché solitamente Le galline nel pollaio Quando ti vedono Scappano Difficile che la gallina Ti viene incontro È difficile Dipende Dipende da con che atteggiamento arrivi Ero piccola Ma io me lo ricordo Perché i miei Mi spedivano con l'aereo Tre mesi Nelle vacanze estive Da nonna Dai nonni in Sardegna Nonna aveva Il pollaio Ha sempre avuto Le galline e i conili L'unica gallina Però porca miseria Non mi ricordo come L'avevo chiamata Perché un nome Gli avevo dato E niente Questa tutte le mattine Mi aspettava Si metteva sulle ginocchia Piegava il collo così E voleva Eh vabbè ragazzi Stavo pensando Che purtroppo Non vivono tantissimo Perché anche Nella storia di Lio Che ormai ogni tanto Sputtaniamo i gallinberti Lui da bambino Aveva proprio Una sua amica gallina Che era la Fernanda La Fernanda La Fernanda Era la gallina di Lio E lui l'ha amata Alla follia Finché poi Se l'ha ritrovata nel piatto E finita male La Fernanda Perché Però lui proprio E la seguiva Era disperatissimo Disperatissimo Perché insomma Quando poi Era proprio piccolo piccolo E niente basta Però era la sua amica Quella lì Quindi insomma C'erano delle robe Per cui questa Lo riconosceva Giocavano insieme La Fernanda Allora Per quello Gli volevo dire Della Piera Che magari ricorda La sua Fernanda Andiamo un attimo di là Perché dobbiamo Altrimenti Salutarci In questi 4 minuti Io vi devo portare I numeri di dicembre Con gli storici Di Lio e di Marco Venite con me E allora Velocemente Nell'89 34 94 94 Attenzione al tasto 3 Lo conoscete Portale a basso costo Da rete fisse Dai cellulari Andiamo a snocciolare Il meglio Per i numeri storici Di dicembre Un terno secco Con Lotto Planet È il mio Siamo a Bari Cagliari Un terno secco Con Pronto Lotto Che è di Lio Siamo a Torino Venezia E qui iniziamo Con i numeri più importanti A livello statistico Quindi fate attenzione Genova Milano O Lambo Di dicembre Iniziamo con i numeri storici Sapete che c'è un calendario Nel mese di dicembre Di ricorrenza E numeri importanti Che di solito portiamo a casa Iniziamo da Genova Milano Vi svelo Che c'è dentro Anche l'unica ruota Dove potrebbe arrivare Subito domani sera L'Ambbo 990 Uno dei più amati E odiati Di questo momento Ma come avrete notato In ottobre Ci siamo avvicinati molto Quindi attenzione A partire da qua Sicuramente il pezzo forte È l'Ambbo di dicembre Vi aspetto con Lio Al tasto 3 Black Panthers Play for freedom Black Panthers Use your wisdom Black Panthers Keep the ball Black Panthers Free at all At weak concentration Heart is just our nation Waiting for the land of hope and dream Play for freedom Dancing on the green grass Breaking every mess Freedom is just nearer than it seems Play for freedom Black Panthers Black Panthers Use your wisdom Black Panthers Kick the ball Black Panthers Free at all Black Panthers Free at all We're gonna break the wall We're gonna kick the ball We're gonna kick the ball Because the world is full of oppression Because we live for life in mission Because we have a brighter vision Because we got our freedom I want this mission Black Panthers Play for freedom Black Panthers Use your wisdom Use your wisdom Black Panthers Black Panthers Kick the ball Black Panthers Free at all Black Panthers Free at all The beat for freedom Black Panthers Black Panthers Black Panthers Black Panthers XXX You see you The beat for freedom Eccoci Pochi secondi E allora grazie Tempo dei saluti Buon proseguimento di serata ci vediamo domani mattina con una nuova puntata delle 9.50 Marco, ancora noi è vero ancora più vicini alla prima estrazione grazie, buona serata e ci vediamo domattina a 9.50, ciao